Un'idea sfiziosa per utilizzare del pane raffermo, su una teglia da forno mettiamo un filo d'olio, appoggiamo il nostro pane, un altro filo d'olio Io li ho farciti con del tonno e cipolla, mettiamo del tonno sulla prima fetta e sulla seconda Poi ho messo le cipolle, tagliate piuttosto fini E un po' di prezzemolo E per finire le ho coperte con del formaggio Gouda Le mettiamo nel forno a 200 gradi per 10-12 minuti finché il formaggio si sarà completamente sciolto Buon appetito